Questo pathway, che fa parte dell'offerta formativa del Consorzio Edunova, dal titolo Technology and Learning Teaching and Learning, si compone, in generale fornisce agli utenti una preparazione relativa all'utilizzo delle tecnologie nell'ambito della didattica e della formazione, con una particolare attenzione alla formazione degli insegnanti e in particolare alla formazione degli insegnanti di formazione primaria, che sono circa metà degli insegnanti italiani. Il pathway è organizzato in due mock, che forniscono ciascuno due crediti per chi li volesse acquisire, ed è costituito da mock che sono così articolati. Il primo, digital Natives and New Way of Learning, racconta sostanzialmente come nell'interazione con le tecnologie didattiche quelli che possiamo chiamare nativi digitali o nuovi bambini, hanno sviluppato nuove forme, nuove modalità di apprendimento delle scuole, la scuola italiana non può più non accorgersi. Peraltro anche a livello legislativo, recentemente il Piano Nazionale Scuola Digitale forza in qualche modo gli insegnanti attraverso l'istituzione della figura dell'animatore digitale, attraverso corsi di formazione che verranno organizzati per gli insegnanti istituzionalmente dalle scuole con il contributo del Ministero ad andare in questa direzione. Quindi è una strada che dovremo percorrere per colmare il gap di 15 anni che abbiamo con l'Europa, come sostengono i dati dell'Ocse. Il primo mock è organizzato in questo modo, ci sarà una parte introduttiva di cultura tecnologica che descrive la storia e lo sviluppo di Internet, che è la parte A, una parte B che si occupa di analizzare da vari punti di vista anche interdisciplinari, chi sono i nativi digitali, come apprendono e in che modo i nativi digitali devono interagire con la scuola e la terza parte è costituita da un'analisi di come deve cambiare la scuola italiana evidentemente per essere a misura dei nuovi stili di apprendimento. Nella pratica fornisce agli insegnanti i rudimenti di base o chi ne fosse interessato, i rudimenti di base per introdursi nel futuro dell'educazione.